E' partita alle 10.30 da via Rizzoli la 42esima edizione della Strabologna, la corsa per le vie della città rinviate il 21 maggio scorso a causa dell'alluvione. Primato di iscrizioni quest'anno sono 22.000 per la rassegna che attraversa le vie del centro, state vedendo le immagini della partenza. Vie del centro, molte delle quali hanno subito delle deviazioni per il traffico sul sito di Tiper, tutte le variazioni ai tragitti degli autobus. Tre diversi percorsi a cui ci si poteva iscrivere in ordine di difficoltà, uno di questi è stato modificato all'ultimo per i problemi che stanno riguardando la torre Garisenda.